Siamo qui al termine della partita vinta dall'HC Banca Popolare di Fondi contro la Dorica Ancona con Alessandro Gionta, uno dei portieri della formazione fondana. Allora Alessandro è stato difficile, più del previsto o come prevedevate? No, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo iniziato abbastanza contratti, il nostro gioco non era quello che abbiamo fatto vedere in Coppa Italia, non era quello che abbiamo fatto vedere con il Siracusa. Ci abbiamo messo un pochino per entrare in partita, però quello che contavano erano i tre punti, anche perché forse giocare a pochi giorni di distanza con la stessa formazione non è semplice. Però davanti al nostro pubblico volevamo prendere i tre punti che sono più importanti per il momento. Molti ci siamo chiesti cosa è successo ad Ancona, tu hai dato una spiegazione alla sconfitta per quanto stasera anche l'Ancona abbia fatto vedere il suo valore. Sì, ad Ancona non ci siamo espressi al massimo, non abbiamo allargato il gioco come ci chiedeva di fare il mister, ci siamo chiusi troppo. Poi è un campo difficile, fuori casa con sirene, con trombe, tamburi. È diverso giocare in casa e giocare fuori. Fa la differenza, qualsiasi tipo di pubblico, un pubblico caloroso rappresenta un uomo in più per la squadra di casa. Ci abbiamo creduto poco, siamo andati sotto, abbiamo giocato male, abbiamo preso un brutto break nei primi dieci minuti del secondo tempo e li avevamo quasi presi, li avevamo quasi raggiunti, però ci è mancato quella scindilla che ci ha permesso di pareggiare e quindi di prendere fiducia in noi stessi in quella partita. Ma torniamo ai tre punti di stasera, cosa ha deciso questa partita a vostro favore? Sicuramente la cornice di pubblico, il pubblico dà una grande mano alla squadra di casa. Eravamo arrabbiati per la sconfitta di sabato, abbiamo giocato con grande grinta. Magari non ci siamo spressi al meglio nemmeno oggi, però magari con un po' più di cinicità sotto porta, dobbiamo essere un po' più cinici sotto porta, potevamo finire con uno scarto maggiore. Certo, ora restano le ultime due partite, noi ci auguriamo che non siano le ultime della stagione. E' difficile raggiungere il secondo posto quest'anno, ma sono convinto che ci proverete. Trasferta Siracusa, Fasano in casa. Sì, il campionato di quest'anno, il nostro girone è più diverso, è più complicato rispetto all'anno scorso e rispetto a due anni fa. Siracusa è una squadra che non è quella dell'anno scorso e si è rinforzata, ci sono delle partite fuori casa, delle trasferte difficili, campi caldi come Benevento e come Ancona, c'è il Fasano che si è rinforzato. Adesso le cose si sono messe male per colpa nostra, adesso ne dobbiamo uscire noi. Come ci siamo infilati in questa situazione ne usciremo. Noi ci crediamo, il messaggio che vogliamo mandare, che voglio mandare anche a nome della squadra, perché noi ci crediamo, perché non facciamo dei sacrifici per nulla. Noi continuiamo ad allenarci per vincere due partite difficilissime, perché il Siracusa ha dimostrato in casa che può battere il Fasano, infatti l'ha battuto. E poi abbiamo i campioni d'Italia, che è l'ultima partita qui in casa, sperando che non sia l'ultima di questa stagione, ma noi daremo il 100% per far sì che questo non avvenga. C'è anche Onorato Pestillo, uno dei giovani atleti fondani che ci ha raggiunto dopo la partita vinta per 26-22 dalla sua squadra contro la Dori Cancona. Cosa è cambiato in questi quattro giorni tra la trasferta intera marchigiana e la vittoria di stasera? Beh, sicuramente la grande voglia di riscatto che avevamo. Poi il fatto che giocavamo in casa, comunque si sa il pubblico è sempre stato il nostro ottavo uomo in campo. Siamo sulla strada giusta anche se secondo me serve ancora parecchia umiltà e parecchia cattiveria agonistica se vogliamo continuare avanti in questo percorso. Ci mancano due partite, sono partite fondamentali. Siracusa è, penso, la partita più ostica di quest'anno e quindi dovremmo, se vogliamo, sperare di vincere e di espugnare il campo di Siracusa dobbiamo mettere un sacco di umiltà, c'è bisogno di sacrificio da parte di tutti, dal primo all'ultimo. Io sono il primo che deve iniziare a sacrificarsi di più. Però dai, siamo sulla strada giusta, oggi era importante riscattarsi dopo la brutta battuta del resto di sabato e va bene, continuiamo così. Certo, ma la vittoria con il Siracusa all'inizio della pool playoff aveva in qualche modo illuso i sostenitori fondani, un po' tutti dell'ambiente, visto il bel gioco e la bella vittoria. Che cosa è successo dopo? Cosa determina questi alti e bassi della nostra squadra? Beh, la palla a mano è uno sport imprevedibile. Lo dimostra il fatto come noi, inverosimilmente, siamo andati a pedere a Benevento quest'anno che c'erano molti punti di classifica che ci distanziavano. Però, ecco, ad Ancona ci è mancata la cattiveria agonistica e la voglia di sacrificio che abbiamo messo in campo con il Siracusa. Il Siracusa, ovviamente, adesso è una bestia ferita. E una bestia ferita è molto più pericolosa di una bestia che non ha subito attacchi. Quindi loro sono vogliosi di riscatto e sabato prossimo ci aspetterà una battaglia. Loro cercheranno in tutti i modi di vincere in casa per assicurarsi il secondo posto. Ora abbiamo con noi mister Guidotti dell'Ancona. La domanda è abbastanza obbligata a questo punto. Cos'è cambiato in questi quattro giorni? Dalla vittoria sofferta, ma bella, ottenuta dall'Ancona in casa, a questa rivincita dei colori rosso-blu qui a Fondi. Intanto complimenti a Fondi. È sempre un piacere venire qua a giocare. C'è un pubblico sempre caloroso, come d'altronde il nostro e come è corretto, come è il nostro. È bello giocare di fronte a tanta gente, non senti un insulto, una parolaccia. Credo che questo sia il primo aspetto da sottolineare. Cos'è cambiato? Fondi innanzitutto ha giocato a mille e non ha sbagliato niente. Noi abbiamo sbagliato troppi gol davanti al portiere, è stato bravo De Angelis sicuramente. Poi il nostro portiere oggi ha parato, però insomma regalare Sanchez e la nostra Lorenzetti che sabato ha fatto nove gol e Sanchez ha fatto il 50% di parate, non è poca cosa. Però a merito a Fondi è stata una bella partita, abbiamo dato tutto. Io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, siamo tutti di Ancona. Ho delle vicinanze perché è quello che viene più distante da 20 chilometri. Quindi sono molto contento, soddisfatto di questo campionato. Veramente oggi mi sono divertito in panchina. Poi chiaro, perdere ti fa rosichi un po', però è sempre un piacere venire qua da voi. Siete stati definiti un po' la sorpresa della stagione, almeno per quanto riguarda il Girone C. Partiti in qualche modo quasi per salvarvi, invece voi siete stati al comando anche a lungo nel Girone C. Cosa pensi della stagione che ormai volge al termine? Due partite rimangono, siete fuori ormai dai giochi per il secondo posto, però comunque dimostrate di onorare il campionato fino alla fine, l'avete fatto anche stasera. Come è andata questa stagione? Se dovesse dare un voto alla sua squadra? Io sono di parte, direi che non dieci ai miei ragazzi. Noi purtroppo siamo tutti ragazzi che lavorano, ci alleniamo tutti i giorni con tanti sacrifici. In trasferta purtroppo qualcuno ogni tanto ha problemi di lavoro perché lavora di notte. L'andata abbiamo avuto tutti i giocatori. Oggi per esempio anche Luca Rini che è affranto nello spogliatoio perché ha sbagliato sette tiri. Lui è arrivato ieri dalla stagione invernale che ha fatto a Madonna di Campiglio. Fino al primo dicembre che era con noi era il capo cagnoniere della squadra. Questa sera ha sbagliato sette gol, però dopo quattro mesi che non ti alleni devo dire solo grazie a questi ragazzi. Noi continuiamo così con la nostra strada, cresciamo i nostri giovani, siamo orgogliosi di fare questo. Onoreremo il campionato, già da sabato prossimo a Fasano sarà difficilissima, ma la partita d'andata con Fasano ce la siamo giocata perché alla fine il punteggio parlava di 28-20, ma a sei minuti dalla fine abbiamo sbagliato la palla del meno uno. Siamo stati sempre in partita e poi sicuramente faremo di tutto per battere il Siracusa e in bocca al lupo al Fondi perché credo che il Fondi meriti di arrivare secondo, nulla a togliere al Siracusa che è anche fatta di ottimi giocatori e poi bravissimi ragazzi, però credo che il Fondi abbia qualcosa di più. Quindi in bocca al lupo, è stata una bella stagione e che dire, ci rivediamo l'anno prossimo e tante belle cose a tutti voi. E Dulcis in fundo, abbiamo anche il tecnico della formazione fondana dell'HC Banca Popolare di Fondi. Cos'è cambiato in questi quattro giorni tra la sconfitta di Ancona e la vittoria di questa sera? Sicuramente abbiamo giocato in casa e davanti a questo pubblico molte cose difficili risultano facili, soprattutto per qualche ragazzo. Poi abbiamo corretto degli errori che abbiamo commesso da Ancona, ne abbiamo commessi tanti, soprattutto di testa. Abbiamo lavorato parecchio, i ragazzi hanno capito quello che non è andato, abbiamo lavorato molto bene lunedì e martedì e i risultati si sono visti, anche se oggi non abbiamo espresso la nostra migliore palla a mano. Però oggi contava vincere, abbiamo vinto, abbiamo difeso in un certo modo, abbiamo aiutato il portiere a fare delle parate importanti. Per cui è il collettivo che ne è uscito bene e questa vittoria è tutta per loro. Restano altre due finali, così come avete chiamato prima di questa partita di stasera. Quella partita casalinga in casa col Fasano e poi la trasferta di Siracusa che deciderà probabilmente il cammino della vostra stagione. Sì, una partita per volta, adesso dovremo andare a Siracusa, il Siracusa è un ottimo momento di forma, ha battuto il Fasano in casa, ha battuto l'Ancona, ce la giocheremo, vediamo come ci arriviamo, vediamo come sono le condizioni, di mano Gianluca come sta, ha ricevuto una brutta botta nel costato. Per il resto vediamo, siamo tranquilli che noi adesso stiamo facendo il nostro dovere, andiamo a Siracusa a giocarci la nostra partita, poi se saremo bravi ci applaudiranno, se sarà più bravo l'avversario noi applaudiremo l'avversario, per cui siamo tranquilli, vogliamo giocare a palla a mano, vogliamo vincere, però noi stiamo facendo tanto e vogliamo continuare a fare tanto, vogliamo crescere, è un percorso di crescita che non si ferma solo a quest'anno, ma abbiamo tanti ragazzi giovani e vogliamo proseguire in un futuro migliore, quest'anno ci stiamo togliendo alle soddisfazioni, vediamo, vediamo quello che accade, se siamo bravi faremo bene. Non c'è dubbio che state facendo il vostro dovere, siamo sicuri che lo farete fino alla fine, ma una domanda, la vittoria con il Siracusa in apertura di pool playoff aveva un pochettino illuso tutto l'ambiente, come mai questo calo immediatamente successivo? No, secondo me non è illuso, perché eravamo in un percorso di crescita importante, si è visto già in Coppa Italia e con il Siracusa, e non solo con il Siracusa ma anche a Fasano, a Fasano abbiamo fatto una gran bella partita, non c'erano tratti di inganno, è che abbiamo preso una partita a Storta da Ancona, molti ragazzi pensavano che fosse facile dopo essere cresciuti così e ne abbiamo pagato le conseguenze, ma non solo sabato da Ancona, ma anche oggi avevamo qualche scoria di sabato, speriamo che questa vittoria ce la siamo scolati di dosso per fare una settimana importante.